Musica Però le cuffie sono là Però con la mia forza Posso prendere le cuffie con la mia forza Come Star Wars Vabbè io credo che non lo dovrei fare in uno video Vabbè Vabbè ragazzi per questo video è tutto Io ho un po' corto Però che cosa ci posso fare Solo perché sono bello Aspetta ma che ora è? Ah c'è scritto qua Ma non lo sapevo Ah c'è scritto qua allora Vabbè ragazzi per questo video è davvero tutto Lasciate un bel like Eh Ragazzi non c'è scritto un like volante Proprio là No, là sta Aspetta Non viene da questo video tutto Ehm Conce il like Vabbè qua Eh Io sono bello lo sogo No vedi che poi vi dite un Ah 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 Grazie a tutti.